Buongiorno a tutti, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, io sono Gioia, biologa del Parco Zoo e oggi vi porterò nel mondo delle zebre, ma prima di andare a salutare i nostri esemplari volevo farvi vedere che nel mondo, o meglio in Africa, sono tre le specie di zebra esistenti la zebra di pianura, la zebra di grevi e la zebra di montagna qui al parco abbiamo alcuni esemplari di zebra di pianura ecus quagga, caratterizzati, come vedete, da strisce larghe e la presenza di strisce d'ombra tra nero e bianco ed ecco qui le nostre zebre, impegnate in questo momento, come potete vedere, a mangiare il fieno che i keeper hanno portato loro le zebre sono degli erbivori, in particolare degli erbivori monogastrici una parola molto difficile che però fra poco vi spiego in natura si nutrono prevalentemente di erba, che strappano grazie ai loro incisivi, che sono molto forti e taglienti il maschio è dotato di 40 denti, mentre invece la femmina, a cui mancano i canini, ne ha 36 essere un animale monogastrico significa avere un grande stomaco e un intestino molto lungo che permette all'animale di assumere, attraverso la digestione acqua, sali minerali e vitamine come potete vedere un'altra caratteristica delle zebre è proprio il loro mantello un manto che eccolo qua se prendiamo come esempio questi due animali inquadrati è ben differente l'uno dall'altro le strisce di ciascuna zebra infatti fungono da carta d'identità oppure possiamo dire sono come le nostre impronte digitali